Ascensore! Ascensore! La vita di suo fratello non era delle più tranquille, ma Fredini, lei senza dubbio n'era al corrente. Potete chiedere alla mamma se per caso ha visto il mio amato cane Valentino? L'ho ammazzato io, perché era da Lazio. Ecuador, Filippini, tanto è uguale, siete tutti forestieri. Voi sporcate e io pulisco. Se volete lavorare qua, vi dovete far piacere quello che piace a noi. Avete rotto il cazzo? Tutti! L'Italia è l'Italia! L'Italia è l'Italia! Alvare! Io difendo la civiltà in questo palazzo finché sarò vivo. L'ascensore è di tutti, caro mio! Io sono stata. È perché mi pisciava sempre nell'ascensore. Me lo riempiva di mozzicone e di sigarette. Assolutamente in mezzo, fatti le cazzi tue. Hai capito che devi fare le cazzi tue? Manfredini ti ricattava e tu l'hai fatto secco. Dov'è il gladiatore? Perché non butta dentro il campione? Vi girava il cane e ti lasciamo stare! Ehi! 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 Giulia! Ascensore! Ascensore! Ascensore!